facciamo i carciofi sott'olio per 15 carciofi abbiamo bisogno di una pentola 750 ml di aceto 15 carciofi in due litri di acqua e due limoni e 5 grammi di sale mettiamo acqua e limone in bacinella togliamo le bucce dure del carciofo esattamente così tagliamo le punte e versiamo in acqua e limone facciamo riposare per 30 minuti dopo il riposo togliamo i carciofi dall'acqua e mettiamo in pentola aggiungiamo l'aceto fino a ricoprire i nostri carciofi il sale e mescoliamo mettiamo sul fuoco e facciamo bollire per 5 minuti scoliamo e facciamo raffreddare per tutta la notte circa otto ore dopo il riposo ecco i nostri carciofi adesso prepariamo un vasetto ben sterilizzato prima togliamo le foglie attorno al carciofo e posiamo nel vasetto uno accanto all'altro aggiungiamo l'olio di oliva fino a ricoprirli completamente chiudiamo il barattolo e riponiamo in un luogo fresco e buio si manterranno così sempre freschi e croccanti fino ad un anno dopo la preparazione facile no se ti è piaciuto il video lascia un like ed iscriviti al canale ciao